VANGELO DEL GIORNO Per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. La lettura del Vangelo del giorno è offerta da www.preghiere.eu Visita il sito per conoscere i suoi contenuti.